Ciao e bentornato sul canale. Oggi andiamo a vedere come riuscire a far diventare molto forte il personaggio di Bennet. Ovviamente prima di iniziare con la guida vi chiedo di mettere un bel mi piace e condividete questo video con i vostri amici. Iniziamo subito! Bennet in Jenshin Impact è uno dei personaggi più utilizzati in questo momento. Inizialmente non lo era, ma poi a un certo punto lo è diventato e quindi tutti hanno iniziato a cercare disperatamente un modo per riuscire ad averlo. Improvvisamente tutti si sono resi conto dell'incredibile utilità della sua skill, viaggio fantastico, ed è diventato uno dei personaggi più utilizzati del gioco. Naturalmente il potere è davvero buono, danneggia un boost di attacco a tutti nella sua area di effetto e cura comunque chiunque sia nella squadra. Non è proprio qualcosa da andare a escludere. Bennet è il miglior personaggio di supporto pirotecnico nel gioco grazie alla sua straordinaria abilità di esplosione elementale. Consiglio di utilizzare una squadra con un secondo personaggio pirotecnico per garantire un bonus che aumenta l'attacco grazie alla risonanza elementale. Dunque ora andiamo ad affrontare l'argomento delle armi. Quale arma dobbiamo andare a usare? Dunque allora vi posso consigliare la Celestia Blade oppure la Rotting Sword. Il problema è che la Celestia Sword è una spada a 5 stelle che si può ottenere solo tramite Wish. E la Rotting Sword invece è una spada che è stata data durante un evento e al momento non è più disponibile all'interno del gioco. Quindi l'opzione migliore che posso dare in alternativa a queste due armi, per chiunque cerchi un'alternativa gratuita, insomma, è di andare a craftare la Prototype of Rancor, che può essere forgiata da qualsiasi fabbro. Dunque questo per quanto riguarda le armi. Invece per il miglior set dei manufatti. Quale dobbiamo andare a utilizzare? Per lui il miglior set di artefatti sono sempre quelli che daranno qualche bonus di attacco o miglioreranno le abilità delle esplosioni elementali. Quindi finora i migliori artefatti sono l'ultimo giuramento del gradatore e Noblesse Oblige. Se invece vuoi concentrare il tuo Bennett sul danno, ti consigliamo anche The Witch of Crimes on Flames. Il set al momento più utilizzato è il Noblesse Oblige. Ora vediamo dove lo possiamo andare a farmare. Dunque se andiamo a utilizzare il Bennett come DPS o Super DPS, ti consiglio di concentrarti sull'attacco a Clessidra. Quindi nel set, nel manufatto Clessidra, dobbiamo avere la voce attacco come stage primaria. In alternativa possiamo andare a utilizzare Element Mastery o Energy Cooldown. Invece per quanto riguarda il supporto di Bennett, dobbiamo avere all'interno della classidra una percentuale di vita. Ora parliamo invece del calice. Per DPS o Sub DPS vai sul Damage Bono Spiro e così non ti sbaglierai mai. Invece per quanto riguarda il supporto, devi avere sempre la percentuale di HP. Ora vediamo invece il manufatto della corona. Cerca sempre gli attributi Critical Damage o Critical Rate, quindi danni critici insomma. Per Bennett Support scegli invece sempre la percentuale di vita. o l'Eal Bonus. Allora riguardiamo adesso bene i set. L'Ombress Oblige come miglior supporto set. Il Crimson Witch of Flames per migliore DPS set. Poi abbiamo il Thundering Fury, Unique Skill Spam DPS. E infine l'Istructor, questo almeno utilizzato. Il migliore 4 stelle set per il Buffing Elemental Reaction. Dunque adesso ripiloghiamo un attimino le statistiche che deve avere il set per quanto riguarda Bennett Supporto e Sub DPS che è quello poi più utilizzato. Dunque come dicevamo prima, la skill più importante per quanto riguarda il Super del Viaggio Fantastico. Infatti Bennett effettua un attacco in salto che infligge danni da Piro creando un campo di ispirazione. Se la salute di un personaggio all'interno dell'area d'effetto è uguale o inferiore al 70% la sua salute si rigenererà costantemente. La quantità di DPS rigenerati varia in base ai PS massimi. Se la salute di un personaggio dentro l'area d'effetto è superiore a un 70% questo acquisisce un bonus d'attacco in base all'attacco di base di Bennett ed è questo qui la skill più importante da ovviamente andare poi ad alzare. Quindi ragazzi questi sono tutti i consigli che mi sento di darvi per chi va a utilizzare Bennett. Ovviamente dovete avere questo personaggio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete qualche altro suggerimento e naturalmente per vedere altre build o altri video su Genshi Impact non solo dovete seguire anche le playlist che sono magari dove trovate video vecchi ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!